Rino Marchesi, ex allenatore tra le altre dell'Inter, che cosa pensa della crisi dei nerazzurri ieri, l'ennesima sconfitta in casa contro il Bologna? Beh, la sconfitta di ieri fa parte un po' di questo periodo qui. L'Inter ha avuto un ciclo straordinario, che ha vinto tutto praticamente, e quando finisce il ciclo diventa difficile poi ripresentarsi subito competitivi. E quindi vanno di mezzo, sono sotto mira i giocatori, la società, però bisogna avere pazienza perché la squadra ha bisogno di tempo. Quest'anno hanno avuto molti infortuni, le partite di Coppa, i cambi di allenatore, insomma tante situazioni. Bisogna però dar merito, io lo do volentieri in particolare a Moratti e alla società, che negli anni in cui tutti i meriti andavano da una parte, in realtà il merito principale è stato della società, perché ci dimentichiamo noi che la società ha preso Maicon a parametro zero, ha portato Lucio e Samuel, ha preso Tiago Motta e Milito da Genova, poi anche Snyder. Però non è mai stato dato risalto alla società che oltretutto ha dovuto anche dialogare con Mourinho, che fra l'altro ha lavorato benissimo in quel periodo, perché Mourinho voleva portarsi Deco, Carvaglio e Quaresma. Poi è arrivato Quaresma e gli altri due sono rimasti e l'Inter, Moratti in particolare e Branca, hanno portato Milito e Tiago Motta. Ora è chiaro che il ciclo quando finisce non bisogna avere la frenesia di doverli vincere subito, perché è impossibile. Io ho visto la Juventus, il Napoli, il Milan. Finito il ciclo pensavano di doversi riprendere subito, commettendo degli errori come li hanno commessi un po' tutti, anche l'Inter quest'anno. E quindi bisogna avere pazienza. Quindi troppa fretta nel voler riaprire un ciclo da parte dell'Inter? Quando sei lì, queste società che sono abituate a stare, non parlo solo in Italia, ma anche all'estero, che sono abituate a stare ai vertici, quando non lo sono hanno la frenesia di voler essere subito lì e qualche volta commettono anche degli errori, non trascurando tutti i meriti che hanno avuto prima. Magari i tifosi se lo dimenticano presto. C'è stata troppa fretta anche nell'affidare la panchina a Stramaccioni nel confermarlo per questa stagione? Questo non lo so, Stramaccioni mi sembra un ragazzo sveglio, intelligente, magari manca un po' di esperienza, però con la protezione della società riesce ad andare avanti, quindi speriamo che i risultati gli diano poi ragione. Stramaccioni ha cambiato spesso modulo, questo è stato un problema per i giocatori? Sai, finché ha avuto Milito in buone condizioni le cose andavano in un modo, poi l'infortunio di Milito ha condizionato molto davanti all'Inter. Anche se sul piano del gioco forse qualche appunto si può fare. Dal punto di vista della classifica quanto sarà difficile raggiungere il terzo posto per l'Inter? Dal sesto al terzo posto, dal secondo, perché anche se il Napoli sembra un po' al riparo, però c'è il Milan che sta bene, la Fiorentina benissimo, e l'Inter e la Lazio che sono impegnati nelle coppe sono quelle che hanno pagato nelle ultime settimane di più, perché la Coppa UEFA è micidiale, porta via molte energie, viaggi, recuperi e oltretutto infortuni che poi non fanno in tempo, giocatori che non fanno in tempo a recuperare pienamente per la partita successiva. E credo che la Coppa UEFA tolto parecchio, sia all'Inter sia alla Lazio. Se l'Inter non dovesse centrare il terzo posto lo confermerebbe comunque Stramaccioni sulla pacchina o no? Non sono io il Presidente, quindi meglio di loro che lo conoscono bene, sono loro che decidono. Visto da fuori però? No, visto da fuori, a me personalmente è un ragazzo che non mi dispiace, però non lo conosco, quindi non posso sapere come lavora, come si muove negli spogliatoi, credo che Moratti lo conosca bene, quindi se ha fiducia lo terrà. Parlando invece anche della Juventus, che è stata un'altra delle sue ex squadre, in Champions può farcela ad arrivare fino in fondo? Che cosa manca ancora a questa squadra anche a livello internazionale? In Champions la Juventus è una buona possibilità di andare avanti. Io tengo sempre presente che la favorita per la Champions, la squadra favorita come organico, è il Real Madrid. il Real Madrid c'è un organico eccezionale che nessuna squadra... Poi la Juventus sta facendo bene, se trovasse qualche gol in più da Vucinic o da Giovinco o da qualche attaccante, perché dietro a centrocampo stanno bene, può arrivare lontano. D'altronde abbiamo visto che la Champions l'anno scorso l'ha vinta una squadra che nessuno dava per... Io penso a altri meriti, perché è una squadra che da due anni in Italia sta dominando e in Europa ha battuto squadre importanti.